Fare i giornalisti vuol dire svolgere un ruolo pubblico, vuol dire lavorare per l'interesse pubblico, ma fare i giornalisti vuol dire anche utilizzare degli strumenti, degli strumenti tecnici e degli strumenti professionali è una capacità, è una cultura di comprendere la rilevanza di un argomento per un pubblico di riferimento che sono specifici per i giornalisti stessi. Si può fare i giornalisti però anche per un brand, si chiama Brand Journalism, è la nuova frontiera della comunicazione corporate contemporanea. Cosa vuol dire fare il Brand Journalist? Vuol dire tecnicamente utilizzare le tecniche professionali giornalistiche, solo ed esclusivamente le tecniche professionali giornalistiche per costruire racconti di marca, racconti del brand, soprattutto per riuscire a intercettare quella che è la rilevanza, se vogliamo parlare in termini giornalistici, la notizia per un pubblico di riferimento di un'azienda e costruire il giusto contenuto e la giusta narrazione per questo. Non vuol dire fare marchette, non vuol dire vendere o svendere peggio la professione giornalistica, vuol dire semplicemente costruire e utilizzare quelle tecniche applicandole alla narrazione di marca, proprio per cercare di trovare la rilevanza per il pubblico di riferimento. È un argomento particolarmente dibattuto nel mondo professionale fra giornalisti e comunicatori. In realtà è una grandissima opportunità perché permette da una parte un contatto molto forte fra due mondi che normalmente si sono parlati ma si sono sempre guardati con abbastanza consospetto, ma dall'altra parte permette al mondo giornalistico di cui io faccio parte, perché sono giornalista professionista quindi parlo a ragione veduta, permette alla mia categoria professionale di avere di fronte delle opportunità professionali completamente nuove e permette alle aziende di utilizzare le migliori tecniche possibili di comunicazione per riuscire a entrare in relazione e in conversazione con i propri stakeholder.